è possibile che i cambiamenti climatici possano scatenare terremoti fino a 30 anni fa si riteneva impossibile era impossibile beh adesso in realtà sta avvenendo entro il circolo polare artico perché qui la prematura fusione degli acci polari o la prematura fusione delle nevi per colpa anche del sorriscaldamento climatico fa sì che si creano delle paludi dei piccoli laghi poco profondi e che vengono riempite falde acquifere poco profonde bene ma basta che in febbraio marzo arrivi bruscamente una gelata che fino a 30 40 gradi sotto zero che dal circolo polare artico sono valori normali quest'acqua fonde immediatamente ma si sa quando gela immediatamente ma si sa che l'acqua gelando aumenta di volume e quindi crea delle crepe enormi nel terreno è proprio un terremoto che può raggiungere anche l'intensità di scala 4 nella scala mercato